La rilevazione Celsior di Union Camere e Ministero del Lavoro diventa più dettagliata e tempestiva. Quali sono le novità? La novità quest'anno risiede soprattutto nel fatto che la rilevazione diventa trimestrale. Dopo 12 anni di attività di rilevazione sui fabbisogni occupazionali e professionali delle imprese, condotta su un'indagine annuale su 100.000 aziende in tutta Italia, quest'anno l'indagine diventa trimestrale e si arrivano ad intervistare complessivamente 260.000 imprese. Un numero quindi molto rilevante che deve consentire per ogni provincia d'Italia di analizzare quali sono i fabbisogni di assunzione nel trimestre successivo. Quindi ieri abbiamo presentato per la prima volta l'analisi provinciale dei programmi di assunzione delle imprese per il trimestre luglio-settembre 2011 e sono emersi in questa maniera dati molto interessanti. L'andamento occupazionale presenta dei segnali positivi? L'andamento occupazionale di questo trimestre del 2011 ci dice di una ripresa lenta ma significativa delle assunzioni. Abbiamo complessivamente 162.000 richieste di assunzione da parte delle imprese, dell'industria e dei servizi e rapportando questo dato con quello che accadeva esattamente un anno fa nel terzo trimestre del 2010 troviamo che sono 23.000 le assunzioni in più che le imprese prevedono di fare. Quindi c'è un andamento di moderata crescita, di ripresa sia nell'industria che soprattutto in questa fase nei servizi sicuramente collegato alla ripresa sui mercati internazionali che le imprese italiane stanno registrando quindi le performance significative che stanno ottenendo sui mercati esteri inducono anche una ripresa produttiva nei settori industriali e nei settori dei servizi collegati all'industria ma anche il settore del turismo in parte per ragioni di stagionalità ma in parte confrontandolo con quello che accadeva lo scorso anno per ragioni di ripresa complessiva di questo settore sta dando segnali positivi quindi un segnale di moderato ottimismo, di ripresa lenta ancora abbiamo dati gravi di disoccupazione ma abbiamo una ripresa che sta attraversando i diversi settori del paese C'è un rilancio delle assunzioni per i giovani? C'è anche questo elemento che abbiamo trovato quest'anno nei dati, in questo trimestre nei dati abbiamo circa il 40% delle assunzioni che le imprese intendono riservare a persone che hanno meno di 30 anni di età e sono assunzioni prevalentemente in questo caso in funzioni tecnico-specialistiche e nei servizi